Sono 92 gli studenti che potranno perfezionare i propri studi grazie alle borse di dottorato Pegaso finanziate dalla regione toscana e presentate a Firenze dalla vicepresidente Monica Barni insieme ai rettori degli Atenei Toscani. 5 milioni e 800 mila euro ai fondi stanziati, attingendo alle risorse del Fondo Sociale Europeo. Il bando per gli studenti interessati è stato pubblicato contemporaneamente dalle università di Siena, Pisa, Firenze e dall'Università per Stranieri di Siena. C'è un grande accordo fra la regione e le università toscane, un accordo che appunto mira a sostenere e a rafforzare il sistema delle università. Per accedere al bando realizzato nell'ambito del progetto Giovani Sì per l'autonomia dei giovani occorre avere meno di 35 anni, essere in possesso di una laurea, conoscere bene l'inglese e rendersi disponibili a fare soggiorni all'estero per almeno 6 o 12 mesi. Si va appunto sempre nella direzione di consolidare questo sistema regionale dell'alta formazione che grazie alla nostra regione toscana mette in campo una serie di iniziative fra cui questo è uno, l'osservatore della ricerca, l'associazione che abbiamo costituito recentemente a Bruxelles. Insomma è un sistema saldo, importante, credo forse unico in Italia. A ogni studente ammesso alle borse di studio saranno assegnati 61.000 euro che diventeranno 66.000 nel caso in cui il soggiorno all'estero duri almeno un anno. Le risorse che vengono dalla regione ci aiutano ad arricchire la nostra offerta dottorale e quindi a reclutare studenti, sempre più studenti, che intraprendono questo percorso di ulteriore formazione dopo la conclusione del loro ciclo di studio universitario. Sul fronte dell'alta formazione sono state già 377 le borse Pegaso concesse tra 2014 e 2018 distribuite su 76 dottorati realizzati in rete tra gli Atenei, i centri di ricerca e in collaborazione con le imprese.